Un cassonetto della spazzatura può avere un'anima. Se ce l'ha, ha un'anima dolorosa e piagata per quel lamento che sprigiona nel vuoto inospitale della periferia di Macerata. Sono le 11.25 del 4 luglio 2006 ed è un giovanotto che per via di una sigaretta che gli brucia fra le dita casualmente si avvicina a quel cassonetto che geme e che racconta una storia di amore e di dolore, di abbandono e di angoscia. Nella sua bocca spalancata e buia, un corpo di donna, imprigionato in un sacco portaabiti, c'era scivolato al fondo, gettato via da mani violente e disperate. E lui, il cassonetto, lo aveva custodito quel corpo perché altre mani lo restituissero alla luce. Sono mani di poliziotti che, chiamati dal giovanotto, ma chissà, era forse un angelo di passaggio, raccolgono dal cassonetto quel sacco e la vita lacerata che contiene. Si chiama Francesca Baleani e ha 36 anni, quella maschera è impastata di sangue, chiusa nel sacco portaabiti. In maglietta e slip, ha i chimosi evidenti sul collo Francesca, ha lesioni e graffi ovunque, ha i polsi chiusi col nastro isolante, come squallido sudario, ha un asciugamano che le copre il volto martoriato. Ma respira, è viva, Francesca Baleani. A colpirla dopo una lite violenta, a ridurre Francesca in quello stato, a gettarla infine nel cassonetto della spazzatura, era stato l'ex marito, Bruno Carletti, un nome, come quello di Francesca Baleani, che a macerata parla di alta borghesia, di eleganza, di cultura e di stile. Giudicato e incapace di intendere e di volere all'atto del crimine, otto anni di reclusione è stata la condanna inflitta in primo grado a Bruno Carletti dal Tribunale di Macerata. Bruno Carletti sconta la pena presso la comunità terapeutica Istituto Crocebianca, a San Severino Marche. Tu sei sempre stata capace di donare con il tuo amore, immenso e incondizionato perché puro, quell'atmosfera felice e serena al nostro mondo. Hai voluto colorare di gioia ogni angolo della nostra esistenza assieme. Tutto il nostro mondo parla di te e del tuo amore. Mi hai fatto capire cosa significhi crescere e diventare grande accanto a una donna come te. Con tutta la tua dolcezza mi hai fatto credere che questo piccolo uomo potesse crescere, potesse acquistare un giusto posto, ma ora capisco che giusto lo era solo in quanto era accanto a una donna grande che avevo avuto la fortuna di incontrare nella mia vita. Sono straci Carletti, tratti da una lettera che lei ha scritto a sua moglie Francesca Baleani. Lettera che peraltro, dopo il drammatico episodio, è stata trovata nel letto di Francesca sotto il cuscino di sua moglie. Lei ricorda in che occasione ha scritto questa lettera? Sicuramente è una lettera che io ho scritto nel periodo immediatamente successivo al matrimonio, quando il nostro rapporto d'amore era un rapporto d'amore vero, un rapporto d'amore completo, e quando le cose, tra virgolette, andavano bene. In questa lettera sono due gli elementi caratteristici, anzitutto questo appunto, questo amore infinito che lei prova per questa donna, un amore che sconfina nella venerazione addirittura, ma poi colpisce anche un'altra cosa, colpisce l'ammissione indiretta che lei fa di un tratto poi precipuo della sua personalità, che è l'insicurezza. L'insicurezza è sicuramente uno dei tratti più importanti della mia esistenza, nel senso che io sin da bambino sono riuscito a scoprire che l'insicurezza ha accompagnato tanti gesti, tanti momenti e tante situazioni della mia vita. Ecco, in effetti nell'infanzia sono le figure genitoriali, quelle che sostanzialmente ti danno l'impronta, l'imprinting, insomma. Ecco, e chi di questi, dei due genitori, che lei amava moltissimo peraltro, in fondo in qualche modo può aver influito in questo senso su di lei? Ma questo francamente non sono in grado di definirlo, perché sia mia madre che mio padre mi hanno amato in maniera molto forte, quindi credo che l'insicurezza che io ho accumulato sin da bambino sia più da ricercare nel rapporto con mio fratello, nel fatto che io comunque mi sentivo sempre inferiore, mi sentivo il figlio più piccolo e quindi in alcune cose meno amato, quando magari non era vero. Ecco, Carletti, noi non abbiamo ancora detto che lei appartiene a una delle famiglie più conosciute dell'alta borghesia di Macerata. Suo padre è stato un noto neuropsichiatra. La sua mamma, che purtroppo è morta molto giovane, era una donna di raffinata cultura, insomma, anche molto impegnata nel volontariato, è così la sua mamma. Nel suo ricordo, Carletti, che clima si respirava in famiglia? Insomma, c'era serenità, armonia. Com'è stata la sua infanzia? La mia infanzia è stata un'infanzia sicuramente felice, nel senso che siamo cresciuti in un ambiente familiare sicuramente ideale. Poi ci sono stati, come possono capitare in tutte le famiglie, dei momenti di difficoltà superati, comunque perché mio padre e mia madre si amavano profondamente. Posso solo confermare che è stata sicuramente un'infanzia molto felice. Senta, Carletti, per quello che la riguarda, lei è una persona molto nota e anche molto apprezzata, molto stimata in città, conosciuto come intellettuale di grana raffinata, come persona elegante, gentile. A macerata lei ha ricoperto anche incarichi molto prestigiosi. Ecco, vuole ricordare lei di cosa si occupava, Carletti? Io l'incarico più importante che sicuramente ho avuto è la direzione del teatro cittadino. Per quanto riguarda la ririca, io avevo un incarico all'Arena Sferisterio, che era il teatro più importante della città, e lì mi occupavo della parte organizzativa fino a un certo punto, poi della parte più squisitamente tecnica. A proposito appunto del suo impegno professionale all'interno del circuito artistico, ma anche per quel che riguarda i suoi rapporti interpersonali, va detto subito che tutte le persone che hanno avuto modo di frequentarla, di avere contatti con lei, ma proprio tutte, con un coro unanime, l'hanno descritta come persona mite, gentile, disponibile, corretta, persona anche molto competente. E poi hanno tutti messo in rilievo un dato caratteriale suo, che era proprio la sua peculiarità, cioè la sua pazienza, ecco, la sua vocazione a non perdere mai la calma, a non perdere mai la pazienza, mai il controllo. Detto questo, macerata che è città, insomma, appassionata di lirica, lei Carlitti era considerato pedina fondamentale delle stagioni e di prosa, ma anche operistiche, appunto, allo sferisterio. Lei, la passione della lirica, in fondo l'ha trasportata anche nei suoi studi, perché lei ha lavorato in lettere, vero? E ha fatto una tesi sulla turandotte. Sì. È così. Ma fra turandotte, traviata, bohème, lei si è mai innamorata di un soprano? No, non mi è mai capitato. Non le piacciono i soprano? Assolutamente sì, però non mi è mai capitato di innamorarmi di una cantante. Però intorno ai 30 anni, un po' prima, insomma, lei si innamora di una ragazza che ha qualche anno meno di lei. Questa ragazza si chiama Francesca Baleani, è una ragazza bella, elegante, insomma, che in qualche modo, che faceva anche in qualche modo parte del mondo dell'opera, della lirica, insomma, che c'entrava Francesca Baleani. Lei lavorava come mascherina, quindi come nel personale di sala, che accompagna il pubblico al posto, a sedere. Ci siamo incontrati e conosciuti in quell'occasione, praticamente. Ragazza della buona borghesia, che oltre a studiare e a fare il resto, faceva anche questo lavoro, giustamente, come tante ragazze si impegnano. Ecco, ma cosa l'ha fatta innamorare di questa ragazza? La cosa che mi aveva colpito sin dall'inizio di questa persona era la sua eleganza e il suo profondo rigore. E di cosa si occupava Francesca, insomma, oltre a fare questa ragazza? Io ho detto una ragazza che studiava. Sì, lavorava per un'azienda nata all'interno della Camera di Commercio e si occupava appunto di rapporti internazionali, di collegamenti con l'estero, di mercato estero, di queste... Quindi una ragazza impegnata, insomma. Senta, abbiamo parlato di quello che a lei è piaciuto di questa ragazza, insomma, ma secondo lei a Francesca cosa è piaciuto di lei? Cosa l'ha fatta innamorare di lei? Non ne ho la più palida idea. Questa è una domanda alla quale difficilmente saprei rispondere. Forse il mio carattere, forse la mia tranquillità, la mia cortesia, questo non lo so. Molto modesto in questa. Era comprensivo, dolce, affettuoso. C'era la classica coppia che uno vede da fuori e dice non manca niente. 1999, una bella data, vi sposate, insomma, è il vostro oltre a essere un matrimonio di grande amore, insomma, è un matrimonio importante, uno di quelli di cui in città si parlano, insomma, ne parlano le cronache mondane. I primi anni di matrimonio, ecco, come funzionano questa vita insieme? Insomma, banalmente eravate una coppia di sposi felici, tanto per metterla proprio. Adesso, rivedendolo oggi, sicuramente i primi anni di matrimonio sono stati anni felici, nel senso che tutto sembrava andar bene, c'era comunque un buon rapporto tra di noi, facevamo le cose insieme, si viveva insieme, ognuno cercava di aiutare, assecondare l'altro, di stargli vicino. Una persona bellissima, cioè, una persona che mi faceva stare bene, cioè, quasi un matrimonio da favola, diciamo. Io stavo benissimo, diciamo, quando uno dice, sono felice. Comunque, posso soltanto dire che mia moglie è stata molto presente nel nostro matrimonio, era sempre attenta a tutto, non mi faceva mancare mai nulla e così cercavo anch'io di riempirla di cortesie, comunque di non farla sentire mai a disagio e sono stati sicuramente i momenti più belli della nostra storia d'amore, i primi anni di matrimonio. Io credo che quello che sia mancato al nostro matrimonio, soprattutto in quel periodo, è appunto l'aver fatto il salto di qualità e l'aver affrontato problematiche importanti, come anche la paternità, la maternità, quindi la presenza di un figlio o altre problematiche. Ecco, è un, diciamo, un problema che ha posto lei, perché in effetti, insomma, una coppia felice, però una coppia che, indubbiamente, bastava a se stessa tanto, forse, da non sentire il bisogno di avere un figlio, ecco, perché non arrivavo? Forse ero io che non avevo mai ancora affrontato seriamente il problema della paternità, non mi sentivo pronto ancora per diventare padre e non ho mai pensato né spinto perché ciò avvenisse. Penso che il problema più grande sia questo. Non maturità sufficiente per voler affrontare una responsabilità. del genere, sì. Quindi, primi anni, insomma, felici, però è un'armonia che non supera il settimo anno, insomma, perché già dal quinto anno di matrimonio cominciano a sorgere dei problemi tra lei e Francesca. Vuole dire lei di cosa si trattava, insomma, che cosa succede? Ma il problema più grande credo che sia stata la mancanza di comunicazione, nel senso che noi non abbiamo mai parlato fino in fondo e ci siamo fermati a un livello che era un livello comunque superficiale e sono cominciati i primi problemi, le prime discussioni, ovviamente anche io mi assumo la mia parte responsabilità e poi non riuscivamo mai a parlare perché io non c'ero mai, ero sfuggente, non volevo affrontare le problematiche fino a quando ci siamo guardati negli occhi e i problemi sono venuti fuori, solo che era già troppo, la situazione era già troppo avanzata, a mio avviso, per poterla riprendere. Mancanza di comunicazione sono quei termini che si adoperano, quelle sorte di slogan che si adoperano quando non si va più d'accordo, parliamoci chiaro, insomma, perché poi il cemento più forte nel vostro rapporto era proprio la vostra capacità di parlarvi, di essere uno accanto all'altro, quello si chiama comunicare. Cosa è che ha sgritolato? Ecco, per esempio, accennavamo prima alla sua scelta, perché poi in effetti è una scelta sua di non volere figli, ma per esempio lei ha mai detto a Francesca con te figli mai? Io non ho detto a Francesca con te figli mai, però non ho mai voluto avere un figlio, ho sempre cercato di evitare il discorso, comunque di non volerlo affrontare per appunto decidere di avere un figlio insieme a Francesca. Con te figli mai? Una frase, questo è chiaro che io lo riporto dagli altri del processo, insomma, dagli verbali, ed è un'affermazione abbastanza violenta, per una donna estremamente dura, offensiva, per dire tu non puoi essere la madre dei miei figli, che non è io non voglio figli, però lei ricorda di avere più o meno detto qualcosa di questo. Sì, sì, questo lo ricordo, è stato sicuramente uno dei problemi più grandi che ha portato poi alla scelta della separazione. Perché indubbiamente Francesca figli ne voleva, insomma. Sì, sì, sì. La vostra crisi, abbiamo detto, cinque anni, quindi 999 e 2004, 2004 comincia la vostra crisi. E lei, Francesca, dice appunto che lei si era progressivamente allontanato, si era distaccato, lei Bruno, insomma, si era distaccato, era venuto a mancare appunto quel tipo di complicità che era quello che poi era il collante forte fra di voi, insomma, e lei si sentiva trascurata come compagna ma anche come donna, insomma, perché lei ha detto che sostanzialmente fra voi anche un certo tipo di rapporti sessuali, intimità, non venuti a mancare. Sì, io mi sono chiesto a questo proposito quanto la complicità e quanto la comunicazione che all'inizio sembrava completa e felice fosse realmente vera. Credo che per alcune cose la comunicazione sia stata una comunicazione parziale, forse per colpa mia. Ma lei era innamorato di Francesca quando l'ha sposata. Sì. Cos'è che a un certo punto non le è piaciuto più di questa donna? Che cosa le è venuto a mancare da parte di Francesca? Forse mi è mancata quella sicurezza che inizialmente mi dava. Nel senso che io non sentivo più quella forza trainante, quella sicurezza che questa donna mi dava all'inizio. Lei non lo recepiva o Francesca non gliela dava? Sicuramente ero io che non recepivo più la sicurezza. Perché Francesca dice appunto che era lei, che era sfuggente, che giustificava anche inizialmente il suo comportamento sempre con problemi di lavoro. Carletti, lavoro o non lavoro, c'è una verità che è innegabile. A un certo punto nella sua vita entra un'altra donna. Sì, nel senso che a un certo punto della mia vita e del rapporto con la mia ex moglie io ho conosciuto un'altra persona che è stata per me una carissima amica, un'amica molto importante e nient'altro, che mi ha accompagnato nel periodo comunque successivo alla crisi del mio matrimonio. Dottor Carletti, lei diciamo mette molto l'accento sul fatto che fosse un'amica e che fra lei e questa signora c'era quindi un rapporto di complicità. Ecco, però è molto più insopportabile l'idea che il proprio partner abbia un rapporto di amicizia, cioè per amicizia intendo un rapporto appunto di forte intesa con una persona, di quanto non possa essere, diciamo, magari una storiella fatta di sesso, la cosiddetta botte via. Noi avevamo un rapporto di amicizia, come ripeto, e ci tengo a sottonearlo perché non voglio che venga equivocata una situazione per quello che realmente non è. Cioè, lei ci sta dicendo era un rapporto nel quale era escluso il sesso? Assolutamente. Tanto un rapporto extracoppia, insomma, in generale fonda soprattutto sui dati passionali, sul sesso, insomma, quindi già un rapporto un po' anomalo, se vogliamo, insomma. Cos'era una scelta? Era una scelta perché io avevo comunque impostato il rapporto in quel senso ed era una scelta comune e, le ripeto, questa donna mi è stata vicina ma con le regole dell'amicizia e basta. Cioè, la signora andava bene, insomma, andava bene che non ci fosse sesso, insomma. Assolutamente, questo. Un po' anomalo come rapporto. Qual era la situazione personale di questa signora? Intendo era libera, era sposata, aveva... Era libera. Però aveva un matrimonio precedente. Sì, sì, sì. E matrimonio precedente con una figlia, mi pare, con un figlio e una figlia. Quindi, lei diceva, quando io ho conosciuto questa signora, era già il periodo in cui la crisi con sua moglie era... Era molto avanzata. Era abbastanza avanzata, insomma. Però, indubbiamente, la presenza di questa donna incide pesantemente nel vostro rapporto. La cosa che faceva soffrire molto Francesca, al di là di questo muro di silenzio che si era alzato fra di voi, di questa assenza di confidenza, di questa assenza sua, diciamo, nel senso che lei non era quasi mai presente in caldo. Però Francesca veniva a sapere che lei circolava molto con questa signora. Ma perché io non avevo nulla da nascondere? Era sposato, però, ancora. Ero comunque nel periodo in cui stavamo separandoci e non avevo nulla a nascondere perché il rapporto con questa donna era un rapporto di amicizia. Però voi l'affrontate, lei e Francesca lo affrontate, perché Francesca, praticamente... Ecco, Francesca, dello sbatte sul grugno a lei il fatto che lei uscisse con questa donna. Sì, io ho detto che per me era un'amica che quindi non c'era nulla di male, voglio dire, non c'era nulla di male. Però sua moglie è eccepiva, insomma. Sì, sì. Si è eccepiva e, oltretutto, a quello che dice lei, insomma, io riporto quello che dice, quello che è presente nei verbali, Francesca, anzitutto, ha detto che ne soffriva molto. Seconda cosa, ha detto nel momento in cui si è resa conto che c'era un'altra donna, perché comunque c'era questa signora, sesso o non sesso, insomma, a poca importanza, le ha detto prendiamoci per mano e superiamo insieme. Questo me l'ha detto prima di separarci, mi aveva chiesto se che lei sarebbe stata disposta a superare il problema della crisi del nostro matrimonio, ma per me non c'erano strade, ma indipendentemente dalla frequentazione con questa mia amica, nel senso che io vedevo comunque finita la storia d'amore con mia moglie, perché non andavamo d'accordo più quasi su niente, nel senso che ogni cosa era motivo di contrasto e di attrito, anche il problema di un figlio, tanti problemi sui quali ci eravamo confrontati e non riuscivamo a trovare un accordo. Quindi a quell'epoca non c'erano, a mio avviso, motivi per poter ricominciare una storia che era finita, secondo me. Francesca, insomma, ricorda, devo riportare le frasi che ricorda Francesca con dolore, ci sembra che lei le abbia detto insieme con te non riuscirei a pensare un progetto che fosse anche una cena o un fine settimana. Questo io francamente non lo ricordo. Quindi la decisione di separarsi chi la prende? Francesca. E che impatto ha su di lei la decisione di separarsi? Per me è stato sicuramente un momento duro, difficile, perché comunque io avevo l'idea che le cose non andassero, però che lei decidesse da un giorno all'altro di farmi convocare dal suo avvocato per separarmi è stato, diciamo, un dato abbastanza duro. E per lei è stato duro perché in fondo, ecco, la sindrome di Penelope, insomma, tutto sommato, nel fondo lei ce l'aveva, insomma, per sua moglie, nel senso che tutto sommato forse, forse, le sarebbe anche andato bene che Francesca fosse rimasta lì a aspettare che l'eroe tornava a casa, perché praticamente la frase che più risulta che lei abbia detto quando poi si sono verificati certi eventi è e io non volevo separarmi, quindi sostanzialmente lei non si voleva separare. Io non l'avrei fatto io per primo, questo sicuramente, perché comunque era una cosa alla quale non pensavo. Vorrei ricordare le parole, peraltro, con le quali Francesca ha motivato la sua scelta. Me ne sono andata per non aspettare la sera che la porta si aprisse, per non aspettare un uomo che non tornerà a cena. 2005-2006 sono anni abbastanza complessi per lei, insomma, perché faccio riferimento al fatto che il periodaccio coincide anche con un periodo di crisi nel lavoro, vero dottor Carletti? Ecco, crisi nel lavoro, insomma, lei è un uomo di successo, con incarichi molto prestigiosi. Vorrei che lei ci ricordasse che cosa si è verificato nel suo lavoro. Ma si è verificato una cosa molto semplice, nel senso che dopo due anni nei quali io avevo avuto un incarico di affiancamento della loro direzione artistica per problemi inerenti alla gestione del teatro, io ho subito un declassamento, un declassamento di ruolo e di onorario molto importante. È stata una ferita importantissima per me che mi ha stravolto, mi ha cambiato la vita e aveva cambiato anche il mio modo di essere. Mi faceva sentire per alcuni tratti quasi un fallito sul lavoro, nel senso che dopo tanti anni di lavoro e di incarichi importanti una riduzione così drastica e repentina mi aveva comunque colpito profondamente. È stato sicuramente uno di quei fattori stressanti che hanno portato a quel blackout, quel collasso, non so come definirlo, che poi ha provocato quello che è accaduto. Ecco, quando si è verificata questa debacle, questa sconfitta sul piano professionale, questo dolore profondo che lei ha provato per questo declassamento, Francesca non era già più al suo fianco, vero? Sì, io l'ho vissuto totalmente da solo. Quindi in un certo senso ne sono venuti a mancare due pilastri forti. Sì, la cosa che sicuramente ha pesato è che queste due perdite sono andate di pari passo, nel senso che io ho avuto la separazione e la perdita del lavoro nello stesso periodo, quindi sono due cose che mi hanno colpito insieme. Quindi praticamente sua moglie la molla, lei torna a scapo, ecco, ma la separazione da Francesca modifica in qualche modo il suo rapporto con l'altra signora, con quella che lei definisce un'amica, con quest'altra donna? No, non viene modificato perché le basi, come le ripeto, erano quelle di una sana amicizia, quindi non c'erano prospettive o non è che io avessi potuto illudermi che dopo la separazione poteva succedere qualcos'altro. Beh, illuso vuol dire che lei ci sperava. No, non mi sono mai illuso, ho detto, nel senso non ho mai pensato che succedesse qualcosa perché non mi apparteneva proprio come... Cambierai verbo, non ho mai creduto. Ecco, non ho mai creduto. Perché illudersi vuol dire sperare anche in qualcosa che non si verifica. No, 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 è perché cambia il significato di quello che lei... Ho perfettamente ragione. ...di quello che lei dice. E questa signora con me era stata molto, sin all'inizio, molto leale, nel senso che l'unica cosa che poteva darmi era l'amicizia, e a me interessava quello, non cercavo altre cose, ero molto tranquillo. Perché ho il dovere invece di ricordare qualcosa che è presente negli atti del processo, lei dirà la sua, che per quanto riguardava questa vostra... chiamiamola relazione, questa signora ha riferito a verbale che lei avrebbe voluto, insisteva, perché il vostro rapporto restasse sul piano amicale, diciamo, sul piano dei rapporti sociali, insomma, la scena insieme, il viaggetto insieme, diciamo, il rapporto conviviale con gli amici, mentre questa signora dice, che ha detto a verbale, che lei Carlitti spingeva invece perché il vostro diventasse un rapporto più stabile. Questo non corrisponde? No, corrisponde in parte nel senso che c'è stato un periodo della mia vita, che è il periodo immediatamente precedente al fatto delittuoso, nel quale io forse, me ne rendo conto oggi, da questo rapporto volevo qualcosa di più, cioè forse non mi bastava, e questo mi creava ansietà, mi creava disagio, ma me ne rendo conto oggi, perché la confusione che ho avuto a livello cerebrale, o meno, nasceva anche dal fatto che da una parte volevo ricostruire un rapporto cordiale con la mia ex moglie e dall'altra frequentavo questa donna e magari mi aspettavo qualcosa di più che non sarebbe successo. Mentre appunto la signora, questa sua amica, racconta di impressioni che lei avrebbe fatto, a quanto sembra, per stringere questo rapporto in termini più intimi, più definitivi, definiti anche, quando Francesca ha preso la decisione di separarsi lei, Carlitti, ha iniziato una sorta di assedio sentimentale nei confronti di sua moglie. Insomma, questo racconta Francesca, a verbale, che lei ha ricominciato a dirle tutte le cose dolci, amorose, che le diceva prima, un cito, lei diceva a Francesca che era la luce dei suoi occhi, che senza di lei non lavorava più, che pensava a lei giorno e notte. Questo Francesca racconta. Quindi diciamo che sostanzialmente in quel momento lei comincia, se me lo consente, a giocare su due tavoli. Francesca dice questo, io ricordo benissimo quello che è successo, nel senso che io, a parte che dopo la separazione, per due o tre mesi non ci siamo mai più visti, a parte questo, né sentiti, ma ricordo benissimo che quello che io facevo era, da una parte mia, il tentativo di riavvicinarla per ricostruire comunque un rapporto che a me interessava, che fosse un rapporto cordiale e sereno. E dall'altra parte anche Francesca mi cercava, mi telefonava, mi faceva in modo di mettersi in contatto con me in maniera molto pressante, molto insistente. Peraltro questo è andato avanti, questo gioco di alterne vicende è andato avanti dall'ottobre del 2005 fino all'aprile-maggio del 2006, un mese prima che successe il fatto, perché 15 giorni prima che successe il fatto abbiamo avuto anche modo di uscire insieme, di andare a pranzo insieme, quindi di confrontarci e di vederci. Però che io avessi in mente e chiedessi di ritornare con mia moglie, questo non lo ricordo e non mi appartiene francamente. Invece Francesca la sostiene il contrario, perché è appunto la domanda che poi, ecco, è irrinunciabile, è perché lei voleva questo rapporto? Forse per il mio equilibrio. Non era un ritorno di fiamma nei confronti di Francesca? No, io volevo assolutamente ricostruire un rapporto sereno con la mia ex moglie, ma non di più. Sono totalmente sicuro di questo, nel senso che non era mia intenzione ritornare nel rapporto coniugale con Francesca. E tutte quelle paroline dolci che le diceva? Non posso vivere senza di te, non dormo più, non lavoro più. Ma queste... Se Francesca le ha dette devono essere vere, insomma. Perché gliele diceva? Io non ricordo di aver detto queste parole, quindi non... Quindi, insomma, c'è questa appunto dicotomia di... perché lei però, cosa diceva Francesca? Lei a Francesca, a proposito dell'altra donna, cosa diceva lei a Francesca? Che non la incontrava, che non la vedeva? No, io ho sempre ammesso con Francesca quello che facevo con questa altra donna. Non c'era nulla da nascondere, perché non eravamo amanti. Io nell'ultimo periodo, prima che successe il fatto, ero arrabbiatissimo con Francesca, perché Francesca non mi dava fiducia, nel senso non credeva che io volessi ricostruire un rapporto sereno con lei, perché per Francesca sicuramente il fatto che io frequentassi un'altra donna continuava ad essere un problema, mentre per me non lo era. Invece Francesca racconta un'altra storia, che lei, il dottor Carletti, voleva tornare con lei, con Francesca, e che le garantiva che non incontrava più questa signora, che non vi vedevate più. Logicamente poi Francesca, il famoso discorso di Macerata, che non è New York, vedeva, sapeva da tutti che lei andava in giro, andava pure a Parigi, questa signora, insomma, e quindi si arrabbiava, perché Francesca non le credeva, insomma. Come faceva a credere? Ha ragione Francesca a non dare fiducia? Perché le doveva credere? Ma io, secondo me, non aveva ragione, perché io non chiedevo nulla a lei, nel senso non chiedevo di tornare insieme, chiedevo soltanto un rapporto cordiale che a me avrebbe dato serenità. In effetti, ecco, lei un po' egoista lo era, diciamola tutta, perché lei pretendiva poi sostanzialmente che Francesca assecondasse questo suo bisogno di avere con lei un rapporto, quale che sia. Ma che cosa le serviva poi? A cosa le serviva? Forse mi serviva, come ho detto prima, per la mia coscienza, per la mia tranquillità, per questo forse, non lo so. Poi, le ripeto, tutto questo appartiene a un periodo in cui io ero evidentemente in una grande confusione. È molto confuso, molto confuso, insomma, indubbiamente. La cosa sicuramente più che oggi più vedo come un campanello allarme è che io non mi ero assolutamente reso conto della situazione in cui ero caduto, nel senso tutto quel meccanismo, vogliamo dire, a orologeria che avevo messo in piedi, che avevo creato, che poi mi ha portato all'autodistruzione, comunque a quello che è successo, io non me ne rendevo minimamente conto, nel senso che andavo avanti come se tutto fosse normale, non c'era nulla di normale, perché, come ho detto prima, il contraccolpo sul lavoro mi aveva ucciso, nel senso che mi aveva colpito profondamente. Il problema del rapporto con la mia ex moglie comunque era un problema che io sentivo ancora in maniera molto forte, molto profonda. Non nego anche un problema per un'operazione che avevo subito alle gambe, che comunque mi faceva sentire quasi un giovane da buttare via. Poi i problemi economici, perché avevo fatto delle scelte sbagliate, quindi mi sentivo quasi un fallito e un depresso. La cosa più di fronte a tutto questo, ci metto anche, come ho detto prima, che da questo rapporto amichevole con questa mia amica in un periodo della mia vita, forse io volevo qualcosa di più e a me stesso non lo ammettevo. E tutto questo ha creato una situazione per cui io ero agitato, non dormivo. La cosa più grave è che pensavo che non ce l'avrei mai fatta, nel senso che nessuno mi potesse aiutare, andavo avanti da solo e che non c'era una cosa che andasse nel verso giusto. E l'errore più grave in tutto questo è che io non ho parlato mai con nessuno. Ma lei non li voleva affrontare i problemi? Io non volevo affrontarli, perché come ho sempre fatto nella mia vita, perlomeno fino a un certo punto, i problemi li ho scansati, li ho messi da parte, li ho nascosti, li ho negati a me stesso. Appunto, poi vedremo in che misura li abbia legati. Ecco, però vorrei tornare appunto a Francesca. Sua moglie ha detto questo. È vero che nell'ultimo periodo io e Bruno avevamo intrapreso l'ultimo percorso di riavvicinamento, ma lui si comportava sempre in modo freddo e formale. E poiché mi risultava che ancora frequentasse un'altra donna, questo percorso non si era concretizzato in una riconciliazione. Quindi Francesca attribuiva a questa presenza di quest'altra donna il fatto che non si realizzasse questa vostra riconciliazione. Però si dimostra che Francesca, come dice lei, teneva molto a lei. Però appunto in tutto questo, onestamente, io devo ripetere che quello che è singolare è che, diciamo, lei, Bruno, che in fondo la coscienza un po' sporca ce l'aveva sul piano del rapporto con queste due donne, quando Francesca si arrabbiava con lei, lei anziché testa bassa, diciamo, fare ammenda e filare dritto, lei si infuriava. E questo è un paradosso. Ma il paradosso era che lei si infuriava sostanzialmente perché Francesca non credeva alle sue bugie. Per me non era così, quindi, cioè, io non è che mi arrabbiavo, nel senso, soffrivo per questa mancanza di fiducia da parte di Francesca. Ma ci aveva torto Francesca, scusi. Aveva ragione, Francesca. Comunque, in qualche modo, però, lei mentiva pure all'altra, insomma, diciamo che poi ingannava tutte e due, forse ingannava anche se stessa, insomma, ingannava un po' tutte e due, perché lei a questa signora, che cosa le diceva? Con Francesca tutto finito, tutto chiuso, non c'è? Sì. E quindi un po' le mentiva, insomma. Era la verità, perché comunque io con Francesca avevo finito il rapporto, nel senso, ci vedevamo come due persone normali che vogliono avere un rapporto tranquillo, nel senso, non... Comunque, il prologo di quanto si è verificato, poi, doloroso, si è verificato la sera prima. È così, Carletti? Vuole raccontare lei che cosa è successo. Vuole raccontare lei che cosa è successo, perché ci sono due versioni di questa... di questo prologo, di quanto è accaduto la sera prima del fatto doloroso che poi si è verificato. Cioè, una versione che è da lei e una versione che è da Francesca. Quasi quasi le racconto prima io la versione che è da Francesca, di quella sera. Francesca sostiene che la sera precedente all'aggressione, siamo al 3 luglio del 2006, giusto? Sì. Verso le 23, ecco, mentre Francesca tornava a casa, in macchina, aveva incrociato lei, Bruno. E lei, Carletti, era la guida della sua autovettura. E Francesca era molto arrabbiata con lei quella sera. Era molto arrabbiata con lei perché lei le aveva detto che sarebbe andata in teatro... Infatti stavo tornando da delle prove al palasporto. ...ad assistere alle prove. Però Francesca aveva controllato. Era andata a teatro e lei a teatro non c'era. Le hanno detto che lei quella sera a teatro non c'era andata e quindi non c'era andata e quindi Francesca si era infuriata nera. Sua moglie, appunto, ancora una volta aveva, diciamo, preso atto di una cosa che lei le mentiva. Insomma, lei aveva detto una balla come è che quindi le ha detto stava con l'altra donna, insomma, e mi mentiva perché stava con l'altra. E quindi gliel'aveva detto, gliel'aveva sbattuto in faccia, appunto, quando eravate incontrati con le macchine, con le vostre reciproche macchine, e praticamente, e poi aveva messo in moto e se n'era andata. A quel punto lei, racconto di Francesca, con la sua auto l'aveva raggiunta. L'aveva raggiunta, avevate ricominciato a discutere, e una discussione vivace massimamente da parte sua, Carletti, e sua moglie ha detto che lei appariva proprio fuori di sé, insomma, urlava come un pazzo, insomma, che lei era stato al lavoro, che quello era il lavoro suo e che non doveva rompere le scatole, perché quello era il suo lavoro e che invece lei in teatro ce l'ha stata. Alla fine dell'urlata Francesca ha detto che lei, Carletti, ha detto che doveva tornare in teatro, però prima le aveva fatto promettere che la mattina dopo, il giorno dopo, vi sareste rivisti, e che lei Francesca gliel'aveva accettato di incontrare, ma soltanto per farla tacere, perché, diciamo, pur di farla stare zitta, insomma, perché lei urlava, insomma. A quel punto, dice Francesca, dice, a quel punto me ne sono rimesso in moto, me ne sono andata a casa e ognuno per conto suo. Questa è quella, la versione di Francesca. Quindi Francesca è andata a casa e lei è andata per conto suo. Invece che ricordo ha lei di quella situazione? Io ho un ricordo molto lucido, nel senso che tutto quello che lei ha detto è vero, però è vero che io non ero in teatro, ma ero al palasporto, ho giustificato queste cose con la mia ex moglie, e dopo le prove in teatro, dove io sono tornato dopo aver incontrato mia moglie, io sono andato a casa mia moglie e siamo stati insieme fino all'uno e mezzo di notte. Non è che io, voglio dire, abbiamo parlato, abbiamo ragionato, riflettuto, e ci siamo dati appuntamento per l'indomani mattina, ma io sono stato fino all'uno e mezzo a casa della mia ex moglie. Questo è... Cosa che Francesca ha negato, invece. No, io ho il dovere di ricordare quello che c'è a verbale, Francesca ha detto questo, ma c'è però un piccolo dettaglio, insomma, che magari va chiarito, insomma, perché poi c'è quello che dice anche l'altra signora. Ha detto che praticamente quella sera lei era andata a cena da lei, e che era stato fino a una certa ora, era stato praticamente fino alle 23.30, quasi, era stato da lei a cena, e che, quindi... Allora dice Buggiero, quella altra signora... No, no, è vero che sono stato a cena da quella signora, ma sono stato da lei fino alle 9.75, fino alle 10, poi sono passato al parasporto e poi ho incontrato mia ex moglie mentre tornavo al parasporto. Peraltro ci sono persone che oggi mi dicono anche che quella sera non avrebbero dovuto fermare, perché si vedeva che quando sono uscito dal teatro ero comunque in confusione, non stavo bene. Io in teatro ci sono andato, ci sono stato fino alle 11.30, 11.30, non ricordo esattamente. Poi sono tornato a casa della mia ex moglie, siamo stati insieme fino alle 11.30. Questo è quello che è accaduto. Cosa che Francesca invece non... Insomma, comunque diciamo che... Lei si divideva un po' fra tutti e due, diciamo la verità, perché era stato pure da quell'altra signora, quindi un pezzetto di verità pure c'è. E poi, peraltro, questa signora ha dichiarato anche un'altra cosa, che il giorno dopo voi sareste dovuti andare insieme, partire insieme per una vacanza in Puglia. Sì, questo è... È vero? Sì, è vero. Tant'è che addirittura c'erano già le... In macchina la signora aveva depositato le valigie. Ora, lei dice, Carletti, io sono stato fino all'una e mezzo di notte, anzi lei ha anche detto, abbiamo visto la televisione insieme, è vero? Esattamente, abbiamo parlato, abbiamo visto la televisione insieme. Poi ci siamo lasciati, gli ho detto, dato che domani mattina devo venire a mettere in carica il batteria del motorino, porto le paste e facciamo colazione insieme. E così è successo, poi alla mattina alle sette, un quarto, adesso non ricordo esattamente quando, mi sono recato presso la casa dove viveva Francesca. Ecco, a questo proposito, la casa dove viveva Francesca era la vostra casa coniugale, che è la casa di sua proprietà, Carletti, vero? Sì, che nelle more della separazione io avevo lasciato a Francesca di comune a corte. In uso, insomma. In uso, sì. Sei riuscito di casa lei, l'aveva lasciato a Francesca. Quindi lei lì domani mattina va a casa di Francesca per fare colazione insieme. Sì, sì, ho preso due paste per fare colazione insieme. Cornetti alla mano, quindi lei bussa alla porta di casa di Francesca e da questo momento ha inizio una sequenza a Bruno che io affido assolutamente alla sua voglia di volerla recuperare. E le faccio soltanto qualche domanda perché si possa capire e dare una spiegazione a certe cose. Lei, quando va da Francesca, ha con sé questa, una trave di legno. Sì, sì, che mi doveva servire per metterla sotto il caricabatteria del motorino. L'avevo portata per questo fine. Ecco. E come mai la porta a su da Francesca? Perché sono salito prima in casa anziché scendere nel garage. Siccome Francesca mi ha aperto senza scendere in garage sono salito direttamente in casa e quindi ho portato con me quel trave, non per altri motivi. Era un trave di 6 cm di spessore. Sì. Ecco, trave di legno. Ecco, la seconda domanda che le rivolgo fa riferimento al motivo che ha fatto scattare nella sua mente la molla che ha scatenato la reazione violenta che poi ha determinato i fatti che si sono verificati. Ecco, lei ha parlato di un litigio con Francesca. Sì. Ecco, da cosa è scaturito, Bruno, questo litigio? Ma il litigio è nato sempre per il motivo che Francesca non aveva fiducia nei miei confronti. e questo a me in quel periodo ingenerava una forte tensione, una forte ansia, una forte difficoltà di rapportarmi con questa donna. E da quel discorso si è passati ad altri discorsi che adesso io in specifico non ricordo. Ricordo molto precisamente che a un certo punto della lite, mentre i toni erano sicuramente saliti, lei mi ha detto una cosa che a me ha fatto perdere totalmente le staffe, nel senso che io ero pazzo come mio padre, figlio di pazzi e quindi mi comportavo come un pazzo. Prima mi ha detto che ero un fallito, che avevo fallito nel lavoro, nel matrimonio, nella vita e poi mi ha detto che ero un pazzo come mio padre. E questo ha aperto una voragine incredibile perché oggi me ne rendo conto il problema del rapporto con la patologia di mio padre per me era un problema reale nel senso che avevo nascosto a me stesso, avevo rifiutato questo problema e invece era per me una falla incredibile. Oggi dopo due anni e più di terapia, dopo averci lavorato, riesco a conviverci, riesco a averlo accettato e quindi a non subire traumi rispetto a questa cosa. Ma prima per me, peraltro Francesca era la prima persona con la quale avevo voluto parlare nella mia vita di questo problema. Quindi Francesca conosceva benissimo questa mia difficoltà, chiamiamola questo mio problema. E sentirmelo tirar fuori nel corso di un'escussione come non era mai avvenuto nelle discussioni precedenti con Francesca, questo ha scatenato in me una reazione violentissima. Ovviamente non serve a giustificare quello che ho fatto perché non ho alcuna necessità né bisogno di giustificare quello che ho fatto perché è ingiustificabile. Però unito a tutto quello che c'era prima, lo stress di cui ho parlato prima, a tutti i problemi che io avevo in testa, questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Diciamo che suo padre neuropsichiatra si era suicidato e è morto suicida. Sì. Questa è l'affermazione di Francesca che ha scatenato in lei appunto quella reazione violenta. Sì. C'è qualche ricordo che lei vuole recuperare? Ma io sul fatto non voglio tornare, anche se oggi, dopo tre anni che ormai è accaduto, io riesco a confrontarmi con quello che è successo nel senso a rendermi conto di quello che è accaduto e prima lo rifiutavo, nel senso nel primo periodo e anche quando sono stato in clinica per me era una cosa che non mi apparteneva. Oggi capisco che è una cosa che ho fatto e la cosa che ovviamente mi distrugge è che ho commesso questa cosa nei confronti dell'unica persona al mondo che non lo meritava, nel senso perché comunque quello che ho fatto è incalcolabile, è ingiustificabile, non ha nessun tipo di giustificazione. Io del fatto ricordo queste cose, ricordo poi quello che è successo dopo, comunque quando io ho colpito la mia ex moglie con il bastone, quando ho tentato a estrangolarla, io ho tutto lucidamente presente nella mia mente, però non credo che sia una cosa utile. Io ti amo la mia moglie! Con il nastro isolante, Bruno Carletti serra i pulsi di Francesca. la imprigiona poi in un sacco portaabiti e, mucchio di carne e piagata, la carica nel bagagliaio della sua madre. Là dove la città si perde nella campagna, c'è un cassonetto dei rifiuti. Carletti lo deposita lì, in quell'urido pozzo, quel sacco doloroso, e da quel dolore, veloce si allontana. Torna a casa, si ripulisce dal sangue, si cambia pantaloni e maglietta che insieme al cavo telefonico e al rotolo di scocci insanguinato chiude in una busta di plastica. Via poi tutto, sepolto in un altro cassonetto. Sono le 9.30, va in ufficio Bruno Carletti e da lì telefona alla sorella di Francesca, mostrandosi preoccupato per non avere più sentita la ex moglie dopo la colazione consumata insieme. Lei voleva che Francesca morisse? No, assolutamente. Io di questo sono convinto, assolutamente. Io volevo, è come se avessi voluto punire Francesca, ma non ucciderla. Ed è per questo che ho scelto anche il cassonetto, di metterla nel cassonetto, perché volevo che tutti lo sapessero. Per me io ero, mi sentivo, offeso da Francesca e volevo punirla, non volevo ucciderla assolutamente. Tant'è vero che io sapevo che era viva dopo che, ho sentito che era viva dopo che avevo commesso quello che avevo commesso. Quindi quando lei, diciamo, la depositata, insomma, nel cassonetto, lei... Io sapevo che era viva. Che era viva. Sì, sì. Ma se qualcuno, per puro caso, non si fosse reso conto che in quel cassonetto dei rifiuti c'era un corpo ancora in vita, se per sciagurata circostanza fosse passato il camion dei rifiuti, al di là delle conseguenze sul piano giudiziario, lei come l'avrebbe messa con se stesso? Ho pensato spesso a questa eventualità e credo che non mi sarei mai perdonato una sciagura del genere. Mi avrebbe sicuramente cambiato la vita per sempre. senta, Carletti, uno dei gesti sulla cui valenza si è molto, appunto, discusso, maggiormente discusso al processo dopo quanto è accaduto, insomma, è andato a casa, va bene, si è messo in ordine, è andato in ufficio, però ha chiamato, ha chiamato la sorella di Francesca. Ecco, qual è, in che ottica lei ha chiamato la sorella di Francesca? Perché volevo che trovassero subito Francesca. Questa era la mia, credo oggi dopo averci ragionato, riflettuto e pensato a quello che mi era successo, credo perché volevo che trovassero subito Francesca. Perché lei sa invece che chiaramente la parte civile, gli avvocati partecipili hanno tentato di mostrare che questo gesto che l'aveva fatto, insomma, l'aveva fatto per, diciamo, per depistare le indagini. L'esplosione della bolla, così è stata definita in perizia che ha portato Bruno Carletti a compiere un atto sicuramente orribile, è stata accompagnata poi da un processo di acquisizione, di contezza di questo fatto che confliggeva profondamente con uno spirito innocente, buono, educato, civilissimo, come da tutti conosciuto a Macerata. Quindi al di là della sua volontà, al di là di alcuni comportamenti che potevano sembrare normali e coerenti anche con il tentativo di eludere le responsabilità di cui si era fatto carico il Carletti con quel gesto, in realtà tutto è spiegabilissimo, basti pensare che invece di darsi alla fuga, per fare un esempio, il Carletti si reca sul posto di lavoro e preoccupato che a qualche ora dal fatto nessuno ancora si sia accorto di niente pensa bene di avvisare lui, telefona la sorella della Francesca Baleani e chiede informazioni mettendo in moto quindi quel meccanismo che di lì a poco l'avrebbe portato ad essere fermato e vederlo ammettere tutte le proprie responsabilità di fronte alla polizia giudiziaria quindi psicopatologicamente la spiegazione è semplicissima è un caso di apparente lucidità che lega in un percorso parallelo in un binario di due coscienze che convivono per alcune ore un momento di totale incapacità di intendere di volere e un momento di autocoscienza in cui già si comincia a invocare la verità e magari anche la punizione come lei sa il trauma ha rubato Francesca la memoria insomma e Francesca quando ha ripreso diciamo conoscenza insomma ha ripreso contatto col mondo ha ritenuto di essere rimasta vittima di un incidente di un incidente stradale insomma si meravigliava che lei non fosse accanto a sostenerla io non ricordo nulla quella mattina se però io penso al gioco di bugie di scoperte di bugie scoperte alla fine penso che la mia sia stata una punizione per non aver voluto credere per non aver scettato il compromesso che lui mi proponeva successivamente a tagliare la nebbia della memoria della povera Francesca è emerso un braccio alzato su un'idee che la colpisce alla scapola non appena lei apre la porta lei ricorda questo insomma ha inchiodato a questa immagine il ricordo di Francesca dell'aggressione subita perché peraltro Francesca non ricorda niente per esempio Francesca non ricorda nemmeno che voi abbiate fatto colazione insieme lei questo lo sa vero? non lo sapevo sicamente mentre poi gli inquirenti hanno trovato ampie prove insomma che tutto quello che aveva detto lei era vero dal carcere e poi successivamente dalla clinica lei ha scritto ripetutamente a Francesca no ha scritto una volta soltanto ha scritto una volta sì sono io che mi sto sbagliando invocando il suo perdono qual è stata la reazione di Francesca? non la conosco Francesca ha posto un netto rifiuto a questa questa sua richiesta di perdono e ha detto Bruno deve considerarmi morta e peraltro Francesca è segnata nel fisico e nel morale insomma e quindi insomma chiaramente così segnata era anche avuto parole sversanti per lei ora Francesca non accetta di perdonarla e soprattutto dà di quello che è accaduto una versione diciamo psicologica diversa Francesca ritiene che lei abbia colpito per il rifiuto che opponeva alla sua richiesta di riconciliazione e quindi quasi quasi sarebbe stato un atto non dico indicativo ma un atto di rabbia e invece lei ha insistito che insomma quello che è accaduto è accaduto appunto per quello che Francesca le aveva detto di doloroso e lì per lei insopportabile lei non accettava i problemi di suo papà insomma non accettava neanche il motivo insomma del suicidio di suo padre ecco lei alla distanza è riuscita a capire perché ecco quella mattina maleditta le parole pronunziate da Francesca dolorose nei confronti di suo padre l'abbiano ferita tanto ma guardi io innanzitutto voglio dire che mi ritengo fortunato per quello che io sto vivendo e vivo da due anni e mezzo perché il percorso terapeutico che sto facendo mi ha permesso di riconquistare la serenità e di ritrovare me stesso di rileggere tutta la mia vita e anche i fatti che io non avevo affatto superato come la morte violenta di mio padre e la patologia di mio padre e posso solo dire che quello che è successo quel maledetto giorno nasce da più variabili da più fattori nel senso che sicuramente c'era una situazione di confusione di malessere mio profondo del quale nessuno e io forse qualcuno si era reso conto ma io no e questo malessere è andato a cozzare contro un'accusa che a me ha suonato in maniera molto violenta da parte di Francesca perché io come ripeto non avevo minimamente superato la questione della scomparsa violenta di mio padre quindi della patologia di cui soffriva mio padre ecco quella realtà per esempio di disturbi psichici di suo padre la negava perché aveva paura era l'abisso della mente che le faceva paura io non so perché la negassi però era un processo mentale che mi apparteneva oggi dopo tutto quello che è successo dopo quello che ho verificato in analisi mi rendo conto che è una è una patologia possibile reale che comunque c'è e quindi non devo non devo nasconderla ma devo affrontarla come un fattore della mia vita un fatto che merita solo affetto e attenzione ma che non deve spaventare insomma perché forse lei aveva in qualche modo paura di quell'abisso forse avevo paura ma in quell'abisso sia pure temporaneamente solo per qualche attimo purtroppo ci è precipitato lei il processo a suo carico carlite è stato celebrato presso il tribunale di macerata è stato celebrato con rito abbreviato e l'impotazione per lei era di tentato omicidio aggravato sua moglie Francesca Baleani si è costituita parte civile contro di lei i suoi avvocati si sono battuti perché venisse riconosciuta la lucidità naturalmente nel processo a suo carico parte determinante fondamentale è una autore perizie psichiatriche per capire appunto in che misura l'aggressione che lei aveva poi messa in atto fosse appunto frutto di un'incapacità di intendere di volere o meno Bruno Carletti è stato sottoposto a due perizie psichiatriche la prima ordinata dal GIP nella fase delle indagini preliminari ed effettuata dal professor Francia il quale è concluse per una totale incapacità di intendere di volere al momento del fatto la seconda venne affidata dal giudice dell'udienza preliminare al professor Pannain il quale è concluse invece per un vizio parziale di mente noi i difensori dissentiamo profondamente dalla decisione del giudice che riteniamo immotivata sotto un duplice profilo il primo è perché non ha mai spiegato il motivo per il quale si era resa necessaria una seconda perizia e il secondo è soprattutto perché nello scegliere la perizia Pannain ancora una volta omette di motivare il perché noi siamo convinti lo eravamo e ne restiamo convinti che la perizia che meglio fotografa la realtà del Carletti è quella del professor Francia e quindi abbiamo chiesto alla corte d'appello di dichiarare non imputabile del Carletti per totale incapacità di intendere al momento del fatto e manca nel caso di specie quello stato confusionale tipico del post-evento se vogliamo far sparire un corpo quello del cassonetto e della compattazione che avviene è un buon strumento dalle telefonate che lui ha compiuto nella mattinata dal comportamento posto in essere questo tornare al lavoro andare a cambiarsi eccetera sono tutti i gesti che riconducono a una condotta post-evento sicuramente lucida determinata e probabilmente con un fine ben preciso lei è stato condannato a otto anni dove vive questo periodo di detenzione di cura in una comunità terapeutica a San Severino in provincia di Macerata e sono due anni e cinque mesi che sono in questa comunità e adesso proseguirò penso il mio percorso in questa comunità lei ricorda qual è stata la reazione di sua moglie quando ha saputo di questo suo ricovero? no non lo ricordo non la conosco sua moglie ha protestato per questo ha chiesto che lei fosse invece ristretto in carcere e ha ritenuto che il luogo dove lei era stato destinato era troppo vicino al luogo dove lei abita e questo le creava diciamo uno stato di ansia di timore per la sua incolumità ecco quindi la domanda che io le rivolgo è insomma a motivo Francesca di temere per la sua incolumità assolutamente no perché per me quello che è successo comunque è una cosa molto che mi ha aperto molto la mente quindi Francesca non ha nessun motivo di temere per quanto mi riguarda per la sua incolumità l'ha più rivista lei Francesca? l'ho rivista una volta soltanto mentre ero in macchina ma non non è stata una cosa momentanea e basta lei desidera rivederla? no francamente no che rapporto ha lei con se stesso attualmente? in questo momento buono sono riuscito a riconquistarlo e sono convinto di non aver ancora terminato il lavoro che sto facendo senta al di là appunto di questo percorso terapeutico importantissimo che lei sta diciamo seguendo in questa comunità terapeutica lei come si trova? come occupa il suo tempo? ma io ho un impegno con la struttura la struttura ha una tipografia all'interno dove io lavoro mattina e pomeriggio e poi quotidianamente svolgo anche altre mansioni che sono le mansioni proprie dall'interno della comunità perché poi ognuno deve fare tutto quello che c'è da fare e per me è importante perché innanzitutto riesco a tenere occupato il mio tempo Carletti oltre ai suoi avvocati insomma che la seguono con grande perizia e anche con molto affetto chi le è accanto in questo periodo in tutto questo momento ma io ho avuto la fortuna di prima di tutto di avere mio fratello mia cognata che sono mia nipote che sono la mia famiglia che mi sono stati molto vicino e poi ho anche altri amici che hanno comunque scelto di non abbandonarmi di starmi vicino Carletti dov'è il suo futuro? questa è una bella domanda io non adesso oggi non non saprei cosa dire nel senso che è ancora un po' troppo presto quando avrò finito di scontare la mia pena mi auguro di poter ricominciare a vivere normalmente una vita tranquilla e in un ambiente ovviamente il più lontano possibile dal luogo dove è successo il fatto e comunque in pace con me stesso e con gli altri questa è la cosa più importante quindi con questo lei sta dicendo che non resterà a Macerata non credo Bruno Carletti consentiamoci un sogno fra noi due lei lavora nuovamente in teatro con il suo incarico e direttore per gli allestimenti deve allestire un'opera qual è l'opera che lei allestirebbe? La Bohème senza dubbio in questo momento la Bohème è un'opera non è Jeong che è un'opera Grazie a tutti. Grazie a tutti.